Spalo un bel po' di cacca. Persi la speranza quando vedi i denti dei cavalli. Mi avvicinai al recinto con la maglietta sul naso per ripararmi un po' dal tanfo. Uno stallone si avvicinò sguazzando nelle tame e mi trì con rabbia. Scopri i denti, appuntiti come quelli di un orso. Cercai di parlargli col pensiero. Con la maggior parte dei cavalli ci riesco. Ciao, esordii. Pulirò le stalle, non è fantastico? Sì, rispose il cavallo. Vieni dentro. Che fame, i mezzosangue sono buoni. Ma io sono il figlio di Poseidone, protestai. Il dio che ha creato i cavalli. Di solito così mi garantivo un trattamento VIP nel mondo equino. Ma non in quel caso. Sì, confermò il cavallo con entusiasmo. Anche Poseidone può entrare. Vi mangeremo tutti e due. Frutti di mare? Frutti di mare? Ripeterono in coro gli altri cavalli, sguazzando in mezzo al campo. Le mosche ronzavano ovunque. Il caldo non contribuiva molto a migliorare il fetore. Qualche idea per vincere la sfida ce l'avevo. Perché ricordavo come c'era riuscito a Ercole. Aveva incanalato un fiume nelle stalle, ripulendoli in un istante. Pensavo di ordinare all'acqua, di fare altrettanto. Ma se non riuscivo ad avvicinarmi ai cavalli senza essere divorato, beh, era un problema. E il fiume era ai piedi della collina, in discesa rispetto alle stalle. E molto più lontano di quanto avessi calcolato, quasi a un chilometro di distanza. Il problema della cacca sembrava molto più complesso del previsto. Raccolsi un badile arrugginito e provai a spalarne un po' lungo il perimetro del recinto. Fantastico! Altri quattro miliardi di badilate ed era fatta! Il sole stava già calando. Avevo poche ore al massimo. Decisi che il fiume era la mia unica speranza. Almeno sulla riva sarebbe stato più facile riflettere. Imboccai la discesa. Quando arrivai, trovai una ragazza ad aspettarmi. Indossava un paio di jeans e una maglietta verde. I suoi lunghi capelli castani erano intrecciati con fili d'erba. Aveva un'espressione severa sul viso e le braccia incrociate. Oh no! Non lo farai! Disse. La guardai stupito. Sei una naiade? Lei alzò gli occhi al cielo. Ma certo! Però parli la mia lingua. E sei fuori dall'acqua. Perché? Pensavi che non fossimo capaci di comportarci come esseri umani se lo vogliamo? Non ci avevo mai pensato. Mi sentii un po' stupido, però. Perché avevo visto un sacco di naiadi al campo e non avevano mai fatto molto altro che ridacchiare e salutarmi con la mano dal fondo del laghetto delle canoe. Senti, cominciai? Sono solo venuto a chiederti se so chi sei, mi fermò lei, e so che cosa vuoi. E la risposta è no! Non permetterò che il mio fiume venga di nuovo usato per pulire quelle stalle ripugnanti. Ma no, risparmia il fiato, ragazzo. Voi semidei dell'oceano vi credete sempre molto più importanti di un piccolo fiume, vero? Beh, sappi che questa naiade non ha nessuna intenzione di farsi comandare a bacchetta solo perché il tuo paparino si chiama Poseidone. Questo è territorio d'acqua dolce, signorino, l'ultimo che mi ha chiesto un favore del genere e, per inciso, era molto più bello di te. È riuscito a convincermi ed è stato il più grosso errore della mia vita. Hai la più pallida idea degli effetti di tutto quel letame sul mio ecosistema? Ti sembra un impianto di riciclaggio dell'acqua, per caso? I miei pesci moriranno. Ci metterò un'eternità a purificare le mie piante. Starò male per anni. No, grazie! Il modo in cui parlava mi ricordò la mia amica mortale, Rachel Elizabeth Derr. Era come se ogni parola fosse un pugno. Non potevo darle torto. Ora che ci pensavo, mi sarei arrabbiato anch'io se qualcuno avesse tentato di scaricare tonnellate di letame in casa mia. Però i miei amici sono in pericolo. Le spiegai. Mi dispiace tanto, ma non è un problema mio. E tu non rovinerai il mio fiume? Sembrava pronta a combattere. Aveva i pugni chiusi, anche se mi sembrò di sentire un piccolo fremito nella sua voce. L'improvviso mi resi conto che, nonostante l'atteggiamento aggressivo, la Nayade aveva paura di me. Probabilmente pensava che volessi strapparle il controllo del fiume con la forza. Mi temeva di perdere. Quel pensiero mi rattristò. Mi sentii come un bullo. Un figlio di Poseidone che se ne andava in giro a fare il gradasso. Mi sedetti sul tronco tagliato di un albero. Ok, ma hai vinto. La Nayade sembrò sorpresa. Davvero? Non mi batterò con te. È il tuo fiume. Lei rilassò le spalle. Oh, bene, cioè, buon per te. Ma venderanno me e i miei amici ai titani, se non pulisco le stalle entro il tramonto. E non so come fare. Il fiume scorreva gorgogliando allegramente. Un serpente scivolò sulla superficie dell'acqua e ficcò la testa sotto. Alla fine, la Nayade sospirò. Ti dirò un segreto, figlio del dio del mare. Raccogli un po' di terra. Cosa? Hai capito bene? Mi accobacciai e raccolsi una manciata di terra del Texas. Era secca e scura, punteggiata di piccoli grumi di roccia bianca. No, non era soltanto roccia. Quelle sono conchiglie, spiegò la Nayade. Conchiglie fossili. Milioni di anni fa, prima ancora dell'epoca degli dèi, quando Gea e Urano regnavano indisturbati, questa terra si trovava sott'acqua. Faceva parte del mare. A un tratto compresi, c'erano dei piccoli frammenti di antichi ricci di mare nella mia mano, gusci di molluschi. Anche i sassi calcarei custodivano i calchi di antiche conchiglie. Ok, dissi. E cosa me ne faccio? Tu non sei diverso da me, semi Dio. Anche quando sono fuori dall'acqua. L'acqua è dentro di me. È la mia fonte vitale. Fece un passo indietro, mise i piedi nel fiume e sorrise. Spero che troverai un modo per salvare i tuoi amici. E detto questo, si tramutò in liquido e si disciolse nell'acqua. Il sole sfiorava le colline quando tornai alle stalle. Qualcuno doveva essere venuto a sfamare i cavalli, perché stavano facendo a brandelli una grossa carcassa. Non riuscii a capire di che animale si trattasse, ma non volevo saperlo. Mi era sembrato impossibile che quel posto potesse diventare più disgustoso di come era già. Ma quei cinquanta ronzini con il muso immerso nella carne cruda c'erano appena riusciti. Frutto di mare, pensò uno di loro quando mi vide. Vieni, abbiamo ancora fame. Che dovevo fare? Non potevo usare il fiume. E il fatto che un milione di anni prima quel posto si trovasse sott'acqua non mi sembrava molto utile. Guardai la minuscola conchiglia calcificata che avevo in mano. Poi la grossa montagna di Letame. Frustrato, la scagliai nella cacca. Stavo per voltare le spalle ai cavalli quando udì un suono. Come un palloncino bucato. Cercai il punto in cui avevo gettato la conchiglia. Uno zampillo d'acqua fuoriusciva da Letame. Impossibile, mormorai. Mi avvicinai al recinto, poco convinto. Cresci, ordinai allo zampillo. Spash! Lo zampillo si trasformò in un getto d'acqua alto un metro e continuò a gorgogliare. Sembrava incredibile, ma era lì. Un paio di cavalli vennero a controllare. Uno avvicinò il muso alla sorgente e lo ritrasse subito. Esclamò. È salata! Era acqua di mare, nel bel mezzo di un ranch texano. Raccolsi un'altra manciata di terra e isolai le conchiglie fossili. Non sapevo neanche cosa stessi facendo di preciso, ma corsi lungo il perimetro delle stalle, lanciando le conchiglie nei mucchi di Letame. In qualunque punto cadessero e rompeva una sorgente di acqua salata. «Basta!» gridarono i cavalli. «La carne ci fa bene! I bagni fanno male!» Poi notai che l'acqua non scorreva fuori dalle stalle né fluiva in discesa come avrebbe dovuto. Gorgogliava attorno a ogni sorgente e poi veniva riassorbita dal terreno, portando il Letame via con sé. La cacca di cavallo si dissolveva nell'acqua salata, lasciandosi dietro solo la vecchia terra umida. «Ancora!» gridai. avvertì una stretta allo stomaco e le sorgenti esplosero, creando l'autolavaggio più grande del mondo. L'acqua salata si innalzò fino al cielo, ad almeno sei metri da terra. I cavalli impazzirono e si misero a correre alla cieca, mentre i geyser li inseguivano da tutte le direzioni. Montagne di cacca cominciarono a sciogliersi come ghiaccio al sole. La stretta allo stomaco divenne più intensa, perfino dolorosa, ma c'era qualcosa di esaltante nel vedere tutta quell'acqua salata. Ero io l'artefice di quell'inondazione. Avevo portato l'oceano in collina. «Basta, mio signore!» gridò un cavallo. «Basta, ti prego!» L'acqua ormai schizzava ovunque. I cavalli erano fradici, alcuni scivolavano nel fango in preda al panico. Le tonnellate di cacca erano state tutte riassorbite nella terra e l'acqua cominciava a raccogliersi in pozze, traboccando in rigagnoli fuori dalle stalle, formando centinaia di piccoli ruscelli diretti verso il fiume. «Fermati!» ordinai all'acqua. Non successe nulla. Il dolore che sentivo nello stomaco stava aumentando. Se non spegnevo subito quei geyser, l'acqua salata avrebbe raggiunto il fiume, avvelenando i pesci e le piante. «Fermati!» mi concentrai con tutte le mie forze per bloccare l'impeto del mare. E i geyser si spensero all'improvviso. Crollai in ginocchio, esausto. Di fronte a me c'erano le stalle, lustre pulite, un campo di fango salato e cinquanta cavalli strigliati a dovere con il manto scintillante. Perfino i brandelli di carne che prima avevano fra i denti erano spariti. «Non ti mangeremo!» gemettero i cavalli. «Per favore, signore, basta bagni salati!» «A una condizione», risposi. «D'ora in poi, mangerete solo il cibo che vi porteranno i vostri allevatori, non la gente!» «No, tornerò con altre conchiglie!» I cavallini trirono e mi riempirono di promesse. D'ora in poi, sarebbero stati dei bravi cavalli carnivori. Ma non rimasi lì a chiacchierare. Il sole stava tramontando. Mi voltai e corsi a tutta birra verso lo chalet. Sentì il profumo del barbecue prima ancora di arrivare e la cosa mi fece arrabbiare ancora di più. Perché adoro il barbecue!» La veranda era addobbata a festa con striscioni e palloncini che decoravano lo steccato. Gerione faceva saltare gli hamburger su una grande griglia ricavata da un barile di petrolio. Euristeo poltriva seduto a un tavolo da picnic, pulendosi le unghie con un coltello. Il cane a due teste fiuttava le costolette e gli hamburger che sfricolavano sul fuoco. E poi, vidi i miei amici. Tyson, Grover, Annabeth e Nico. Tutti gettati in un angolo, legati come vitelli, con le caviglie e i pulsi bloccati e la bocca imbavagliata. «Lasciateli andare!» strillai, ancora senza fiato dopo aver salito le scale di corsa. «Ho pulito le stalle!» Gerione si voltò. Indossava un grembiule su ogni petto, con una parola su ciascuno, di modo che insieme componessero «Baciare il cuoco!» «Ah sì? E come ci sei riuscito?» «Fremevo di impazienza, ma glielo spiegai.» Lui annui con approvazione. «Molto ingegnoso!» «Sarebbe stato meglio se avessi avvelenato quella naia de pestifera, ma non importa.» «Liberi i miei amici!» lo esortai. «Era questo il patto.» «Ah, ci ho riflettuto molto.» «Il fatto è che se li libero, non mi pagheranno.» «Lo ha promesso!» Gerione fece un verso di scherno. «Mi hai forse costretto a giurarlo sullo stige?» «Non direi.» «Perciò non è una promessa vincolante.» «Quando si fanno affari, figliolo, bisogna esigere sempre un giuramento vincolante.» Squainai la spada. Ortro ringhiò. Una testa si sporse verso l'orecchio di Grover e scoprì le fauci. «Euristeo!» disse Gerione. «Il ragazzo sta cominciando a seccarmi. Uccidilo!» «Euristeo mi studiò.» «Non mi piacevano molto le probabilità che avevo contro di lui e la sua mazza.» «Fallo tu!» replicò il mandriano. Gerione inarcò le sopracciglia. «Come?» «Mi hai sentito!» brontolò Euristeo. «Mi affibbi sempre i lavori sporchi. Attacchi sempre briga senza motivo e sono stufo di morire per te.» «Vuoi combattere col ragazzino?» «Fallo da solo!» Era il discorso meno da Ares che avessi mai sentito pronunciare da un figlio di Ares. Gerione buttò la spatola a terra. «Osi sfidarmi?» «Dovrei licenziarti subito!» «E chi si occuperebbe del bestiame?» «Ortro, qui!» Il cane smise subito di ringhiare contro Groover e andò ad accucciarsi ai piedi del mandriano. «Bene!» ringhiò Gerione. «Di te mi occuperò dopo quando il ragazzo sarà morto!» Raccolse due coltelli da carne e me li scagliò contro. Ne deviai uno con la spada e l'altro si conficcò sul tavolo da picnic a un centimetro dalla mano di Euristeo. Andai all'attacco. Gerione parò il mio primo colpo con un paio di molle incandescenti e lanciò un affondo verso la mia faccia con un forchettone del barbecue. Lo schivai e mi slanciai in avanti col pendolo dritto al cuore del torace di mezzo. «Aah!» Si accasciò in ginocchio. Aspettai che come tutti i mostri si disintegrasse ma cominciò a rialzarsi con una smorfia. La ferita sul grembiole da chef iniziò a risanarsi. «Ci hai provato figliolo!» esclamò. «Ma il fatto è che ho tre cuori!» «Il sistema di recupero perfetto!» Ribaltò il barbecue e il carbone si riversò dappertutto. Un tizzone atterrò accanto alla faccia di Annabeth che reagì con un grido soffocato. Tyson stava cercando di liberarsi ma nemmeno la sua forza bastava spezzare quei legacci. Dovevo vincere quella battaglia prima che i miei amici si facessero male. Conficcai la spada nel torace sinistro di Gerione ma lui si limitò a farsi una risata. Lo ferì nello stomaco destro. Niente da fare. Era come infilzare un orsetto di peluche a giudicare dalla sua reazione. Tre cuori. Il sistema di recupero perfetto. Colpirne uno per volta era inutile. corsi in casa. Vigliacco gridò torna qui e muori con dignità. Le pareti del salotto erano ornate di un bel po' di raccapriccianti trofei di caccia teste di drago e di cervo impagliate una vetrina piena di armi da fuoco una serie di spade e un arco con la faretra. Gerione lanciò il forchettone che si abbatté contro il muro accanto alla mia testa con un tonfo sordo. Staccò due spade dalla parete. la tua testa finirà proprio lì Jackson vicino al Grizzly ebbi un'idea folle mollai vortice e afferrai l'arco ero il peggior arciere della storia al campo non riuscivo nemmeno a colpire i bersagli altro che fare centro ma non avevo scelta non potevo vincere quella battaglia con la spada pregai Artemide e Apollo i gemelli arcieri sperando che per una volta avessero pietà di me vi prego ragazzi solo per una volta vi prego incoccai una freccia Gerione rise sciocco una sola freccia non sarà meglio di una sola spada sollevò le spade e si lanciò all'attacco io mi tuffai di lato prima che si voltasse scoccai la mia freccia e colpì il torace destro di fianco udì tump 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 mentre la freccia trapassava un torace alla volta e rispuntava fuori sul fianco sinistro conficcandosi sulla fronte del grizzly Gerione lasciò cadere le spade si voltò a guardarmi tu non sai tirare con l'arco mi avevano detto che tu non sape la faccia di Gerione assunse una brutta sfumatura verdognola crollò in ginocchio e cominciò a sgretolarsi in sabbia finché di lui non rimasero altro che tre grembiuli da cucina e un paio di stivali da cowboy extra large slegai i miei amici e Oristeo non cercò di fermarmi poi attizzai il barbecue e gettai il cibo tra le fiamme in offerta ad Artemide e Apollo grazie ragazzi dissi vi devo un favore il cielo tuonò in lontananza il profumo degli hamburger era stato gradito urrà per Percy gridò Tyson possiamo legare il mandriano adesso chiese Nico sì concordò Grover e quel cane per poco non mi ha ucciso guardai Euristeo che se ne stava ancora seduto tranquillo al tavolo da picnic con ortro che teneva tutte e due le teste appoggiate sulle sue ginocchia quanto ci metterà Gerione per riformarsi gli chiesi Euristeo si strinse nelle spalle un centinaio di anni non è di quelli veloci grazie agli dèi mi hai fatto un favore hai detto di essere morto per lui in passato ricordai come? lavoro per quel farabutto da migliaia di anni avevo cominciato come un mezzo sangue qualunque ma ho scelto l'immortalità quando papà me l'ha offerta il peggiore sbaglio della mia vita ora sono bloccato in questo ranch non posso andarmene non posso licenziarmi mi occupo delle vacche e combatto le battaglie di Gerione siamo legati ecco forse puoi cambiare le cose suggerì e Uristeo strinse gli occhi come? puoi essere gentile con gli animali prenderti cura di loro e smettere di venderli come cibo e soprattutto puoi smettere di fare affari con i titani e Uristeo ci riflette non sarebbe male porta gli animali dalla tua parte e loro ti aiuteranno quando Gerione tornerà forse sarà lui a lavorare per te una volta tanto e Uristeo sorrise oh beh questo sì che non sarebbe male non cercherai di impedirci di partire che mi prenda un colpo no Annabeth si strofinò i polsi scorticati lo scrutava ancora con sospetto il tuo capo ha detto che qualcuno aveva pagato per lasciarci passare chi? il mandriano si strinse nelle spalle forse lo ha detto solo per confondervi e i titani? chiesi gli hai già mandato il messaggio iride su Nico? no Gerione voleva farlo dopo il barbecue non sanno nulla di lui Nico mi stava guardando torvo non sapevo che cosa fare con lui dubitavo che fosse disposto a venire con noi ma d'altro canto non potevo lasciare che se ne andasse in giro da solo potresti restare qui fino alla fine dell'impresa gli proposi saresti al sicuro al sicuro? ripete lui che te ne importa se sono al sicuro oppure no tu hai fatto uccidere mia sorella Nico intervenne Annabeth non è stata colpa di Percy e Gerione non mentiva quando ha detto che Crono sarebbe interessato alla tua cattura se conoscesse la tua identità farebbe di tutto per averti dalla sua parte io non sto dalla parte di nessuno e non ho paura invece dovresti replicò Annabeth tua sorella non vorrebbe se vi importasse davvero di mia sorella mi aiutereste a riportarla indietro un'anima in cambio di un'altra? dissi sì ma se non vuoi la mia a te non voglio spiegare niente strizzò gli occhi per ricacciare indietro le lacrime e io la riporterò indietro a Bianca non piacerebbe replicai non così tu non la conoscevi mi urlò lui come fai a sapere quello che le piacerebbe? scrutai le fiamme del barbecue ripensai a quel verso della profezia di Annabeth il re degli spettri segnerà la tua vittoria o la tua pena probabilmente si trattava di Minos e io dovevo convincere Nico a non ascoltarlo chiediamolo a Bianca il cielo sembrò scurirsi all'improvviso ci ho provato rispose Nico a Franto non vuole rispondere riprovaci ho la sensazione che risponderà se ci sono io perché dovrebbe? perché mi ha inviato dei messaggi iride risposi all'improvviso certo che fosse stata lei ma ha cercato di avvertirmi di farmi sapere cosa avevi in mente perché potessi proteggerti Nico scosse la testa impossibile c'è un solo modo per scoprirlo hai detto che non hai paura mi rivolsi a Euristeo ci servirà una fossa come una tomba e poi del cibo e delle bevande persi intervenne Annabeth un po' allarmata non credo che sia una buona e va bene esclamò Nico ci proverò Euristeo si grattò la barba c'è una grossa buca sul retro per la fossa biologica possiamo usare quella Ciclope prendimi il frigo portatile in cucina spero che ai mortali piaccia la birra analcolica esclamò che è si è